Ben tornati a non me l'avevi detto, questa sera per chi si fosse collegato in questo momento parliamo di disegno e di architettura, un caro argomento di Andrea, visto che oltretutto, ricordiamolo perché l'abbiamo postato anche su Facebook, avevi realizzato un piccolo disegno per la seconda puntata dedicata alla scuola, così ti facciamo anche un po' di pubblicità. Grazie, grazie. Però visto che sei stato cattivo e comunque ti ho fatto la pubblicità lo stesso e mi hai interrotto prima, riprenderei solo la domanda che stavo facendo a Erika perché ero molto incuriosita appunto da questa sua tesi dedicata appunto al disegno e volevo sapere se adesso effettivamente nella tua professione hai cambiato il tuo modo di approcciarti appunto al mestiere dell'architettura e quindi se effettivamente anche tu hai iniziato ad utilizzare il disegno. Ma sicuramente la scelta di fare uno studio di dottorato, una ricerca di dottorato, quindi un po' più approfondita rispetto a una tesi del quinto, del terzo, del quinto anno, nasce proprio da questo mio interesse già nei confronti del disegno. Come dicevo prima, la vera scoperta è stata probabilmente questa esperienza in Erasmus dove ho visto che esistevano questi corsi di disegno a mano libera anche nelle scuole di architettura, nelle facoltà di architettura. Dopodiché per realizzare questo studio, comunque questa ricerca, sono finita a Porto dove ho visto ancora una realtà ancora migliore, cioè un piccolo paradiso in cui questi architetti, questa piccola scuola di 100-120 studenti lavorano in questo modo, quindi proprio utilizzando il disegno. E credo che sia fondamentale, quindi anche per una mia professione futura, adesso ho finito il dottorato. Una piccola domanda, visto appunto il periodo, perché si parla dei giovani che vanno all'estero, la fuga dei cervelli, tu pensi poi eventualmente di restare in Italia oppure anche tu di trasferirti altrove? Ma allora, già ci ho provato, nel senso che ero andata un po' a Dublino, un po' sono stata ad Amsterdam, quindi già solo il fatto di vedere altri posti, altre realtà, vedere come lavorano, anche proprio a livello architettonico, degli studi di architettura, vedere come usano certi materiali, come progettano con certi materiali, magari anche per i fabbricati, che qui... Sei tornata con la depressione, insomma. Quello sicuramente. Per questioni personali non credo, però credo che ci siano molti più stimoli all'estero. Forse anche meno difficoltà a trovare un po'... Forse anche meno difficoltà. A me nello specifico non dispiacerebbe anche poi lavorare in ambito di illustrazione, design, sempre tenendo il disegno come base. Sì, come base. Anche per dire, l'anno scorso ho realizzato un piccolo libro di illustrazioni per bambini, in collaborazione con uno scrittore. Lui lo fa più che altro per piacere, non è uno scrittore di professione. Ecco, però è venuto fuori questo progettino, ci siamo divertiti, a me è piaciuto molto. E anche per me il disegno è proprio un'attività fondamentale. Sempre per riallacciarmi alla questione della progettazione, è proprio l'atto disegnativo che ti suggerisce la soluzione. Quindi c'è proprio questo legame tra mente e mano occhio, che è anche, diciamo, difficile da spiegare, però molti, sia artisti che scienziati cognitivisti, stanno studiando da una ventina, una trentina d'anni questi aspetti. Quindi è anche un ambito molto valorizzato, diciamo. Molto interessante. Non ne sapevo nulla, davvero sono colpita. In qualche modo, diciamo, dal punto di vista architettonico, il disegno paga, no? Cioè, poi, vabbè, ci sono delle differenze rispetto appunto agli altri paesi, come al solito, noi vediamo sempre dopo. Però ecco, da questo punto di vista, quindi il disegno è un aspetto molto importante. Io volevo chiedere invece a Maria, che insomma non abbiamo ancora sentito, tu invece sei illustratrice, no? Sì. Ti faccio la domanda secca. L'illustrazione, anche il fumetto, perché so che in qualche modo ti sei anche occupata di fumetto, paga in questa società? Allora, sì, diciamo che sicuramente dipende tutto da come uno decide di gestire l'illustrazione. Io ci tengo a precisare che io sono anche una grafica e quindi sono riuscita a inserire l'illustrazione all'interno di un ambito un pochettino diverso. Anche tu hai fatto Politecnico? Io sì, Politecnico. Virtual Graphic, vero? Sì, Progetto Grafico. Quindi venite praticamente un po' tutti dal Politecnico, immagino. Progettisti. Che bello. Progettisti in qualche modo. E niente, praticamente c'è una netta differenza tra l'illustratore, secondo me, come può essere lui, e l'illustratore che invece cerca di inserire le sue illustrazioni all'interno di una comunicazione ben precisa. Perché quando studi il disegno atto alla comunicazione in un certo campo, devi anche adeguare il tuo segno al tipo di comunicazione che devi fare. Quindi per certi versi, quando si fa un disegno per la comunicazione, quindi per la grafica, per quello che può essere un volantino, una brochure o comunque un cartellone, il disegno non è più quella cosa creativa che scatturisce dalla tua testa e che puoi schizzare su molle schine mentre sei sul bus, ma diventa una cosa molto più progettuale e molto più simile a quello che è il suo lavoro, per dire. Perché devi studiare il segno adatto, il colore adatto a un certo tipo di comunicazione e in qualche modo la tua creatività è limitata a quello che... Quindi stai dicendo in qualche modo che devi rispettare una serie di canoni, regole, che forse nell'illustrazione tutto ciò invece è molto più libero. Esatto, può scaturire esattamente come tu lo vuoi, invece quando studi per la comunicazione diventa un altro tipo di lavoro. E in questo senso paga, nel senso, per riallacciarmi alla domanda, cioè l'ho presa da lontano ma volevo risponderti alla domanda, secondo me in questo senso paga, cioè fare comunicazione, fare il grafico e avere un buon segno, saper tenere in mano una matita, comunque riuscire a disegnare quello che tu vuoi esprimere, secondo me, io trovo... Ecco, ma che cosa significa avere una buona mano? Eh, sono andata a mettermi nei guai. La domanda da 10 milioni di dollari. Nel senso, nel mio campo avere una buona mano vuol dire riuscire a esprimere esattamente quello che hai in testa, secondo me, quindi riuscire con pochi tratti o comunque in modo preciso a dare l'idea di quello che vuoi trasmettere. Cioè, non creare chissà quale disegno complicato, che magari può essere artisticamente molto bello, ma che poi magari comunica al primo impatto poco, ma riuscire con pochi tratti e in modo molto preciso a esprimere un'idea. Nel mio campo avere una buona mano si traduce in questo. Poi, chiaramente, ci sono milioni di tipi di illustratori, ogni illustratore è un mondo a parte, quindi ognuno, secondo me, cerca di fare... guadagnarsi il pane, diciamo, la propria terra a terra, nel modo che conosce. Lui, prima sentivo parlare lui, siamo entrambi illustratori, ma secondo me facciamo proprio parte di... Due ambiti. Sono due ambiti diversi. Esatto, ed è bello che sia così, nel senso, ognuno, secondo me, deve trovare la sua strada per riuscire a fare in modo che la sua passione, il suo disegno sia anche qualcosa che possa dargli da mangiare, insomma. Ecco, io so che in qualche modo tu sei una grande appassionata appunto di fumetti, no? Secondo me, però, insomma, conferma, oppure dammi la tua opinione, penso in qualche modo che l'illustrazione e il fumetto siano proprio due metodi profondamente diversi, no? Di, diciamo, comunicare qualcosa. Perché mentre nell'illustrazione magari ti basta anche semplicemente una sola immagine, no? E all'interno di quell'immagine devi inserire tutta una serie di cose, come potrebbe essere appunto un'emozione, un pensiero, un'idea, eccetera, eccetera. Mentre invece nel fumetto c'è una conseguenzialità, diciamo, di disegni, di forme, anche geometriche, eccetera, che quindi in qualche modo strutturano proprio il progetto diversamente. Secondo te quale delle due cose è più difficile e in quale sei più incline? Allora, parto dalla prima domanda, che è difficile già rispondere alla domanda, quindi vediamo cosa riesco a dire. È l'effetto primo della classe di questa sera. Allora, secondo me fumetto e illustrazione sono molto diversi per un fattore fondamentale, che è quello del tempo. Nell'illustrazione tu hai un disegno in cui devi magari racchiudere tutta la storia e quindi puoi avere due o tre pagine di racconto che poi vengono riassunte in un'illustrazione, tante volte così. Ma ci si riesce, tra l'altro? I bravi riescono. Non mi sono messa in mezzo, nel senso, i bravi illustratori ce la parlo. Lasciamoli lì, i bravi, vediamo. E quindi c'è il fattore tempo che è totalmente diverso dal tempo che noi conosciamo, perché in una sola illustrazione ci puoi far stare tutto, può diventare una sorta di locandina del tuo libro. Nel fumetto, invece, è l'esatto opposto, perché tu hai le tue vignette e quindi devi far stare, in queste vignette, devi far scorrere il tempo, in un certo senso. Quindi io trovo che la difficoltà principale dell'illustrazione sia di riuscire a far stare tutto il tempo della storia dentro un'illustrazione, o comunque trovare il momento topico della storia, se tu non vuoi farla stare tutta, trovare quel momento topico perché quell'illustrazione parli esattamente del racconto che la precedeva, o che magari non la precedeva, ma insomma bisogna trovare il momento topico del racconto. Però forse la difficoltà invece del fumetto è l'esatto opposto, cioè cercare di trovare i tagli giusti per evitare di... perché praticamente nel fumetto tu hai tutta la storia da raccontare con le immagini e con le parole e devi dare le inquadrature giuste, devi dare i tagli giusti come... Ecco, come si scelgono queste cose? Per esempio le inquadrature, piuttosto che magari i vari tagli, cioè supponiamo che uno abbia anche solo una storia molto molto semplice, una persona che cammina per una strada o insomma che comunque faccia azioni molto semplici, come decidi come partire, come far proseguire questa mina che cammina ed eventualmente come farlo terminare? Ok, allora innanzitutto dipende tutto dallo stile della storia, perché noi possiamo decidere di mettere molti primi piani, molti piani lunghi, insomma prenderla dal basso, prenderla dall'alto a seconda del tipo di atmosfera che vogliamo creare, perché se noi vogliamo creare un'atmosfera horror, un'atmosfera di paura, allora magari sceglieremo molti piani, molte inquadrature dal basso, perché l'inquadratura dal basso fa sentire il lettore più in basso rispetto al personaggio, una cosa che si trova anche nel cinema, tra l'altro. Esatto, proprio come nel cinema è più incline a dare un'impressione di paura, comunque di soggezione, se noi vogliamo dare l'impressione di rilassatezza magari sceglieremo dei piani molto lunghi, faremo vedere dei paesaggi e quindi a seconda del tipo, secondo me, di atmosfera che noi dobbiamo dare a questa storia, andiamo a creare i tagli giusti, le inquadrature giuste e andiamo a costruire il nostro scorrere del tempo, diciamo così. Ecco Alessandro, vabbè tu ti occupi, insomma, di forse appunto un ambito completamente diverso, ma come schizzi? Cioè abbiamo parlato prima che lo schizzo è una parte molto importante, però insomma che tecniche usi e che materiali utilizzi? In questo momento, questo, cioè il digitale, ho dimenticato la carta, basta. Quindi è un ambito completamente diverso. Basta, è una scelta un po' radicale. Ma perché non ti piace la carta? No, perché bisogna trasferire il disegno quando hai molti collaboratori o colleghi o così, nel senso che tra l'altro queste nuove tecnologie ti permettono di fare molte cose, quindi trasferire il disegno, ti permettono di inserire dei contenuti di diverso tipo, quindi dallo schizzo all'immagine scaricata da internet, ti permettono di uploadarla magari su un blog, perché comunque deve essere distribuita la tua comunicazione, quindi magari tu hai il tuo taccuino, te lo metti in tasca e nessuno me lo vedrà. Adesso, come dire, nel grande mondo connesso sarebbe sempre più interessante, forse nell'obiettivo sempre di farsi conoscere ognuno, poi, non so, magari l'ottore di certe dottorato, sì, fare la pubblicazione, però magari molto più di quello che hai fatto rimarrà come ho fatto io, pile e pile di libri, di schizzi, di testi, mezzi scritti, riscritti, riscritti, file, però poi, come dicevo prima, l'output è quello che... Certo. Quindi sempre dipende, quindi a me in questo momento questo mezzo di comunicazione per me è importante, per i miei colleghi, per comunicare con l'esterno. E quindi sono passato... Ci sono delle regole da seguire anche appunto per la realizzazione come abbiamo visto, non lo so, appunto dei mobili o piuttosto, cioè segui delle regole o comunque il primo schizzo è sempre quello, diciamo, che proviene direttamente dall'idea che hai avuto. No, questo è interessante. Dipende un po', devo ammettere, dipende un po' da come si fa, non tanto il cosa si fa. Se il cosa si fa forse lo si sa, il come si fa si può fare in vari modi. Tra l'altro, tra le varie cose, la mia tesi dottora è proprio sui processi partecipativi, dove più persone in modo collaborativo possono disegnare o progettare o comunque esprimere un desiderio. Ecco, secondo te è facile progettare insomma in più teste? Esiste sempre il salto, il salto creativo. Vogliamo per esempio ricreare la cuccia del cane, no? Quindi è un'idea che va sviluppata per esempio su tre, quattro teste. Ci si arrabbia e ci si fa le scarpe vicenda oppure si riesce... Secondo me dipende molto dai singoli, ci sono persone molto empatiche, molto, come dire... Quindi bisogna trovare anche dei collaboratori che siano abbastanza... Sì, comunque se si ha un obiettivo comune, secondo me poi si supera qualsiasi cosa. Sì, poi esistono magari le prime donne, tra virgolette, chiamiamole così. Però non... almeno io come i miei colleghi arriviamo da percorsi in cui la partecipazione, il coinvolgimento, la collaborazione, il processo creativo condiviso è un fattore importantissimo. E per tale ragione secondo me l'esperienza ti porta comunque a non collaborare. C'è sempre questo processo incrementale. Magari a volte lasci il disegno lì e magari lo riprendi dopo una settimana perché ti è utile comunque sedimentare delle idee, perché comunque o sono dei lampi di genio o altrimenti comunque ci vuole un po' di tempo e lasci il sedimentare e poi magari riprendi con più calma il discorso perché magari hai bisogno anche di fare un minimo di ricerca. Perché nasce l'idea e dopo comprendi o attraverso la pratica o attraverso lo studio, quindi la teoria, comprendi che magari quella tua idea o è già stata fatta e quindi addirittura sai che può essere fatta meglio quindi comprendi che era una banalità e quindi butti via il progetto oppure come dire ti fai forza e riacquisti, cioè sfrutti questa nuova idea per magari riprogettare. Quindi le tempistiche di realizzazione appunto dei vostri... Dipende, dipende, dipende. A volte è anche buona la prima, eh. Ah. Sì, sì. Se piace comunque come dire, se a tutti convince il prodotto, se l'idea è condivisa e accettata e addirittura supportata, perché no? E allora si va avanti, perché no, certo. Oppure magari piuttosto si prende lo stesso oggetto e lo si elabora quasi in modo diverso, nel senso l'idea può essere la stessa ma prende due strade completamente diverse. Dipende? Dipende, dipende anche dalla volontà e dagli obiettivi. Ma i progetti che fai sono la maggior parte commissionati o sei tu che ti sponsorizzi in qualche modo? Beh, in questo esempio qui siamo noi che comunque come progettisti, appunto, tutti in autocostruzione, quasi siamo... costruiamo tutto l'impianto dall'idea alla vendita. Perché tra l'altro abbiamo canali di vendita. Dipende un po' esatto da quello che si va a fare nuovamente. Nel senso che ad esempio il progetto urbano si può disegnare tutti quanti insieme. la mappa del proprio quartiere, si chiamano mappe mentali, mappe partecipate, per il SMEP, ci sono molte tecniche di disegno collettivo dove magari si intervista, si schizza insieme e si estrappano delle informazioni utili poi al progetto, che poi possono essere ascoltate, rienterpretate, riaggiustate o anche trascurate completamente. Quindi in questo caso arrivano da noi e continuano ad essere nostre. Chiaramente se c'è poi un cliente, ci sono quelli che appunto chiavi in mano, va bene così qualsiasi cosa, oppure noi preferiamo proprio il nostro approccio, quello di confrontarci con il committente. Ti dà stimoli, ti dà idee, viene coinvolto. Chiaramente possono nascere sempre meno problemi, perché chiaramente è stato coinvolto, quindi questo progetto dovrebbe essere sostenuto e accettato da lui già prima di trovarlo su carta. Quindi coinvolgere comunque già dall'inizio ti permette di evitare magari forse... Quindi poi nella produzione, nella realizzazione. Diciamo, provo, ma neanche forse problemi, perché chiaramente poi c'è la parte del tecnicismo, quindi magari il progetto funziona effettivamente, però magari, come dire, non hai ascoltato il suo desiderio e quindi magari l'opera è perfetta, però magari la usa malvolentieri, cioè nel senso, non so, l'oggetto non era esattamente conforme al suo desiderio, o la città ha magari disegnato, non so, un giardino per cui poi i bambini non lo usano. Magari è bellissimo, è perfetto, c'è l'impianto di irrigazione, di illuminazione perfetti, ma poi questo non viene usato in quanto, non so, per qualsiasi motivo. E adesso state preparando... Devo interrompettere di nuovo, perché è il momento della pubblicità, quindi fai la domanda dopo, a tra poco. Grazie a tutti!